Una manifestazione e un incontro con il prefetto per chiedere un intervento urgente e serio da parte dello Stato italiano per il rilascio dei due Marò arrestati e trattenuti in India. Protagonisti i Fratelli d'Italia Piacentini, guidati dal coordinatore Tommaso Foti, che si sono ritrovati questa mattina sotto la prefettura. Un doveroso gesto di solidarietà nei confronti dei nostri due militari arrestati legittimamente e quindi sequestrati dall'India. Un incontro con il signor prefetto nella sua rappresentanza del governo italiano per fare presente la richiesta alta e forte che finalmente vi sia un intervento risolutivo per una vergognosa situazione non più ulteriormente tollerabile.